ciao a tutti appassionati di anime manga sono ales come sempre invito a seguirmi qui su youtube su twitch su instagram e anche sul mio gruppo telegram tutti i link come sempre trovate qui sotto in descrizione oggi farò la prima impressione di gachi akuta e ito della star comics la regola non è ancora uscire a meno momento in cui registro video uscirà settimana prossima questa è la limited cioè la varia scusate che era presente nel suo cofanetto a 12 euro e 90 questo il cofanetto con la la variant dietro la sovracoperta è fatta così carina come idea interessante prime pagine a colori all'interno di questo cofanetto poi trovate questa cart questa carta plastificata anche il nostro protagonista e adesivi questi adesivi ma non è finita quando è uscito solo la variante uscito anche la limited in questo box in questo cestino a 29 euro e 90 qui interno trovate la sua limited che faccio vedere faccio vedere vicine questa è la limited poi all'interno del box trovate questa porta chiavi non è di plastica è una specie di spugna così sembrerebbe e queste quattro card trasparenti dei personaggi principali a meno che si vedono nel primo volume parliamo un po di questo nuovo manga di questo nuovo battle manga battle shonen parte che si introduce con con una frase negli oggetti che abbiamo a cuore risiede un'anima e con la domanda ma invece nella spazzatura ciò che buttiamo cosa risiede e questo qua è l'incipit che dopo aver letto più volume è molto collegata al power system di questo manga è molto incentrato a questo siamo in una città sembra perfetta dove tutti gli abitanti molto simili a noi vivono in pace e tranquillità e quando hanno un rifiuto o qualcosa che non usano più un peluche po rovinato lo buttano via siamo nel pieno del consumismo come noi come siamo noi nel nostro mondo sviluppato così tra virgolette perché e da una parte del muro invece vivono degli accattoni o comunque persone che discendono da criminali che sono stati buttati al di là del muro che vivono nella sporcizia un po che considerano comunque rifiuti un po come un tesoro e è paragonabile al nostro terzo mondo e tengo qualsiasi cosa qualsiasi oggetto che riescono a prendere lo tengono particolarmente a cuore e il nostro protagonista per appunto è uno di questi è figlio di un assassino che suo padre ha ammazzato qualcuno così si dice si racconta quindi visto anche che di cattivo occhio dagli stessi abitanti di questi tribali perché vengono soprannominati tribali quelli che abitano di là del muro è molto veloce il nostro protagonista che si chiama rudo e vediamo facciamo su conoscenza mentre fruga tra i rifiuti di queste persone benestanti al di là del muro trova un peluche abbandonato e scappa via viene soprannominato il vandalo del pattume è visto un po di cattivo occhio dagli stessi abitanti da questi tribali perché fanno tanto per dare un nuovo nome a loro stessi perché non è colpa loro se i genitori hanno fatto crimini e quindi vogliono un po' nobilitare il loro nome quindi non vogliono che qualcuno disturbi troppo le persone alto locato comunque benestanti al di là del muro rudo a un'amica di cui è palesemente infatuato chiwa che l'unica che sembra sostenerlo e credergli e c'è un'altra persona recto che è stato un po da padre putativo che l'ha cresciuto fino a che a un certo punto qualcuno ammazza il padre il padre putativo recto e viene addossata la colpa a lui e in questo mondo questi criminali vengono buttati nel baratro cioè dalla città vengono buttati tutti i rifiuti e anche questi criminali a mo di rifiuto umano per rimarcare questa cosa che sono rifiuti di società vengono gettati anche loro in questo baratro e non si sa più che fine fanno nessuno sa cosa ci sia sotto e quindi però possono suo protagonista finisce finisce dal baratro e si risveglia e da subito attaccato dalle creature fatte di spazzatura massi di spazzatura e viene salvato da aegin un ripulitore con delle tecniche particolari che non vi starò a dire perché ve le lascerò scoprire con il power system di questo nuovo manga che non voglio spoilerarvelo perché se no vi dico troppe cose però è molto legato alla precedente frase che ritorna spesso la prima frase che ho detto ritorna spesso all'interno del primo volume ma sicuramente ritornerà spesso all'interno dell'opera perché si fonda proprio su questo argomento cioè la spazzatura come vista cioè il riciclaggio e un po' il consumismo come una colpa come il colpevole perché ormai nessuno va a riparare le scarpe si fa prima a gettarle via per farvi un esempio qualsiasi umano è un giocattolo rovinato non si sta lì a cercare di ripararlo con la colla o magari di verniciarlo si prende si butta via e se ne compra un altro e quindi un po' l'autore punta un po' il dito contro questo consumismo sfrenato che anche il fatto di dover cambiare per forza telefono avere l'ultimo modello ogni anno io non sono così io cerco di risparmiare cioè non tanto per risparmiare ma perché buttare via qualcosa che alla fine funziona ancora per comprare solo per un modello che è dell'ultima generazione che non è che cambia proprio così tanto oppure quelli che bruciano i libri così tanto per fare un po' di spettacolo sono cose che non riesco a capire e il nostro autore punta il dito contro questo attraverso il nostro protagonista Rudo che anche lui odia gli sprechi perché qualsiasi cosa non gli è mai stata data tutto si è dovuto guadagnare quindi questi guanti che gli vengono donati da Rektor sono l'unico ricordo che gli resta li tiene davvero con grande cura che tra l'altro gli servono anche coprire le mani perché finché la memoria ha delle brutte cicatrici che praticamente rendono le mani di colore nero non sa perché non sa cosa gli è capitato però questi guanti sono davvero importanti per l'opera e per lui perché davvero mi fermo perché sennò direi troppo però sono molto molto importanti questi guanti e per appunto come la prima fase la prima frase che ho detto in un oggetto che noi amiamo che portiamo sempre con noi alla fine poi risiede un'anima e quindi bisogna avere cura degli oggetti comunque c'è un po' un mito giapponese su sta cosa che gli oggetti dopo 100 anni hanno un'anima cioè diventano vivi è un mito parecchio importante anche in Giappone e quindi un po' anche rivisitato però in chiave più moderna ecco proprio perché il fatto di Giappone come noi occidentali, europei, americani cioè buttiamo via troppo, sprechiamo troppo anche e soprattutto il cibo mentre c'è una parte del mondo che non ha nulla cioè va a frugare davvero tra i fiuti un po' come le favelas in Brasile ecco un po' quel paese di tribali dall'altra parte del muro ricorda un po' le favelas ecco gente che fa di tutto per sbarcare il lunario quasi nascoste agli occhi di società quasi dimenticati dei reietti e a rudo questa cosa non va bene soprattutto quando viene gettato nel barato perché gli viene addossata una colpa che non ha figurati poi lui che è a strama, stradora, recto il suo padre putativo perché lo considera davvero un padre cioè colui che gli ha salvato la vita e a cui gli deve tutto accusato di Tura della sua morte già vuole cercare il vero assassino poi di Tura accusato di questo tradito dalla sua gente tradito anche da Cigua perché crede alle voci questo sistema che queste persone questo ambiente questa società che preferisce dare dell'etichetta alle persone senza neanche conoscere l'etichetta alle cose e uniformarsi a tutti senza avere una propria personalità senza cercare di capire qual è la vera verità ecco il nostro dudo è un po' un anti-litteram soprattutto quando viene gettato dal barato e merita vendetta vendetta contro chi gli ha ammazzato il padre contro questa società e e vuole riuscire a ritornare su su nel mondo dei celestiali così soprannominato da chi? dagli altri altri figli di criminali che sono stati gettati dal baratro vedono un po' come il paradiso questo questo mondo di sopra e lo chiamano appunto cielo paradiso e lì il barato è l'inferno e quindi un po' molte similitudini comunque col mondo cioè il terzo mondo che dall'Africa scappano per venire in Europa quindi vedono questa meta agognano questa meta come se fosse il paradiso un po' spesso inalfabeti che comunque non hanno vissuto vite agiate e il nostro mondo da occidentali che comunque ha tutto anche troppo forse anzi senza forse ha troppo e quindi non riesce a sprezzare a volte il vero valore delle cose ed è un peccato comunque in manga mi è piaciuto come più volume molto interessante un'idea molto innovativa soprattutto come power system non che mi ricordi di qualcosa di simile a questo power system anche la tematica ambientale che si incentra più volume ma credo tutto il manga anzi sicuramente è qualcosa di molto moderno quindi io gli darei una chance magari se non volete spendere i soldi per il limite e il variant la prima settimana d'ottobre riuscirà la regular quindi prendete pure la regola io vi ringrazio se il video è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like noi ci vediamo ai prossimi video